Ricevute a Palazzo Lascaris nei giorni scorsi due delegazioni di lavoratori, alla prima composta da rappresentanti forestali, è stato illustrato l'emendamento approvato in finanziaria che garantirà nuove risorse per le attività forestali. Alla seconda delegazione di lavoratori della SCR è stato ribadito il parere negativo della Giunta alla soppressione della società di committenza della Regione Piemonte, proposta contenuta in due emendamenti alla legge finanziaria.